Che fredda c'era, maledetta primavera! Era il 1981 quando una giovane Loretta Goggi cantava Sanremo, maledetta primavera, un pezzo entrato nell'immaginario collettivo. Lì c'erano di mezzo i sentimenti, qui nel nostro additare, ammiccare la stagione primaverile, la considerazione che finora di tempo bello se n'è visto davvero poco, quasi col contagocce. Qualche bella giornata che aveva illuso proprio all'inizio della stagione e poi spiccioli di sole, tante giornate invece caratterizzate da un flusso di correnti fredde e una circolazione poco mediterranea che di fatto ha comportato un clima più britannico che dell'italico stivale. Anche le temperature ne hanno risentito, tanto che in alcune zone dell'Alta Garfagnana, fino a pochi giorni fa, c'era chi ancora faceva uso del riscaldamento domestico, magari quello a legna. Non ci resta che affidarci, come sempre, agli esperti dell'AMMA. Le loro previsioni a breve termine, e ci riferiamo al fine settimana, non inducono all'ottimismo che vogliate andare al mare o in montagna, vi attendo un sabato e una domenica con poco nulla sole, leggere piogge e temperature soft. Le previsioni a medio termine invece, qui andiamo a 7-10 giorni verso la fine del mese, sono decisamente più confortanti. In soldoni dovrebbe finalmente esplodere la primavera, quasi a confondersi con un precoce avvio d'estate che alle nostre latitudini non sarebbe assolutamente una novità. Allora, muniamoci di pazienza, ne abbiamo avuta tanta, e aspettiamo fiduciosi la fine del mese. Sole, temperature anche tra i 25 e i 30 gradi, forse la maledetta primavera sta davvero per finire.